Elezioni a Marsciano. Presentate le liste a sostegno dei sei candidati in Lizza. Anche a Marsciano il 25 maggio si andrà a votare per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco. Alle 12 di sabato 26 aprile sono scaduti termini per la presentazione delle candidature e con la seguente convaia da parte della Commissione elettorale ora il quadro degli sfidanti è diventato ufficiale. Saranno sei i candidati a sindaco, 13 liste presentate invece delle 14 previste. I candidati in Consiglio Comunale saranno 195 con quattro liste che non sono riuscite a raggiungere il numero di 16 candidati. In alcune liste, andando a scrutare, si troveranno padri e figli, mariti e mogli e così via. Nel 2009 i candidati a sindaco furono quattro con 11 liste e i candidati al Consiglio Comunale erano 203. Vediamo ora quali saranno i candidati alla carica di sindaco a Marsciano e con quali schieramenti. Alfio Todini, il sindaco uscente, sarà appoggiato come previsto da quattro liste, quella del Partito Democratico, quella di Sinistra e Socialisti, proposta a Marsciano e Sinistra Ecologia e Libertà. Solo quest'ultima non è arrivata a 16 candidati ma si è fermata a 15. Giorgio Brunori sarà il candidato del Movimento 5 Stelle che fra l'altro è stata la prima lista presentata a Marsciano alle 8.20 del 25 aprile. Solo 11 i candidati, il numero minimo previsto dalla legge sui 16 a disposizione per la lista che per la prima volta correrà alle comunali marcianesi. Cristiano Costantini aveva annunciato due liste a supporto della propria candidatura ma all'ultimo momento le carte in tavola sono cambiate e ci sarà la lista La Forza per Marsciano che sosterrà l'attuale consigliere di Forza Italia, ultimo candidato a presentare i documenti alle 11.57 di sabato. Il centrodestra marcianese ha puntato sul giovane Andrea Pilati che sarà sostenuto da due liste, centrodestra marciano e giovani idee per Pilati sindaco. Quest'ultima con 12 candidati probabilmente sarà la lista con i più giovani per il Consiglio Comunale tutti nati fra il 1985 ed il 1996. Sabatino Ranieri che 5 anni fa arrivò al bellottaggio contro il sindaco uscente sarà appoggiato a tre liste, quella del Movimento per la Qualità della Vita, quella di Marsciano Democratica e la Nuova Lista con 13 candidati di lavoro e ambiente. Federico Santi, altro candidato della sinistra marcianese, avrà a supporto due liste quella della sinistra per Marsciano dove sono confluiti molti militanti di rifondazione comunista e quella dell'altra Marsciano. Questa invece è la scheda elettorale che marcianesi si troveranno fra le mani il 25 maggio per decidere il nuovo assetto del Consiglio Comunale di Marsciano ed il nuovo sindaco.